Sono 35 i percettori di reddito di cittadinanza che da lunedì hanno iniziato la propria attività al fianco dei dipendenti di Civitavecchia Servizi Pubblici. Dopo l'approvazione della convenzione tra il Comune di Civitavecchia e il CSP ed un periodo di formazione per i cittadini coinvolti, in particolare per quel che concerne la sicurezza sul lavoro, sono partiti a tutti gli effetti i progetti utili alla collettività. I cosiddetti BUC sono attività di restituzione sociale per coloro che ricevono sostegno economico statale in favore della collettività e ognuno di loro è tenuto ad un impegno di otto ore settimanali. A raggiungimento della ventiquattresima ora di assenza ingiustificata si perde il diritto al reddito di cittadinanza. Tra queste attività c'è la pulizia delle strade della città, in particolare di quelle della Marina e del Centro, gli interventi di sistemazione nel complesso della Ficoncella, la partecipazione ad attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di CSP all'interno dell'officina, le attività dell'ecocentro, quelle nei due cimiteri cittadini e il lavoro sulla raccolta differenziata porta a porta non domestica, quella cioè riservata alle attività commerciali. Sono davvero molto soddisfatto, afferma il presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici Fabrizio Lungarini, di come sono andati questi primi giorni, anche perché ho avuto modo di verificare il report della giornata. Tengo a sottolineare che le attività che vengono svolte le 35 cittadini non sostituiscono ma si vanno ad aggiungere a quelle dei nostri operatori. Finalmente siamo partiti con i primi 35, ma puntiamo a raddoppiare il numero nel giro di qualche mese non appena ci saranno forniti i nominativi dal Centro per l'Impiego. Da quando mi sono insediato, conclude Lungarini, ho spinto molto per questo progetto perché credo sia rivolto all'inclusione sociale, a dare opportunità nel mondo del lavoro e anche a formare promotori del vivere civile. Grande soddisfazione sarà espressa anche dall'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli, che si è posta all'obiettivo di allargare i PUC anche al mondo della pubblica istruzione. Siamo convinti, dichiara l'assessore, che sia necessario quantomeno ripensare il reddito di cittadinanza, sia per rendere utili alla collettività le persone che non soffruiscono, sia per contribuire al loro progressivo reinserimento nel mondo del lavoro.